Ciao, siamo a Maga Pian Grant, vicino a Danbre, e basta faremo l'anello del guslon. Ciao ciao. C'è stato un imprevisto, allora stiamo facendo l'anello del guslon, ma non lo potremo completare perché qua dietro ci sono un po' di alberi lungo la strada ed è difficile passare, non sappiamo quanti ce ne sono, quindi per evitare di complicarci la vita e trovarne poi degli altri, torniamo indietro e andremo a rifugio semenza, semplicemente. Ciao ciao. A dopo. Allora, siamo ritornati a Maga Pian delle Lastre e adesso saliremo su al rifugio semenza per il 9.26 e il 9.23. Allora, siamo ritornati a Maga Pian delle Lastre e adesso saliremo su al rifugio, a Maga Pian delle Lastre e adesso saliremo su al rifugio, a Maga Pian delle Lastre e adesso saliremo suizzyi Agabilitari, a Maga Pian delle Lastre e adesso saliremo su al ritornati per il 9.22. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.